Buonaventura con il destro, palla a spiovere, il colpo di testa di Leskert, la palla in rete, un gol pazzesco di Locatelli, un gol pazzesco direttamente nel 7, il pareggio del Milan e anche il primo gol in Serie A di Manuel Locatelli. 3 a 3, Tramila e Sassuolo al 72esimo minuto, non ci crede nemmeno lui, quasi piange, Manuel Locatelli, pallone respinto dall'Eskert, il sinistro un terra aria, nulla da fare per consigli.